Come nelle previsioni i Molfettesi, domenica 25 giugno torneranno alle urne per il ballottaggio. Dovranno scegliere se il loro prossimo sindaco dovrà essere Tommaso Minervini oppure Isa De Bari. Il pronostico della vigilia è stato in tal senso rispettato. Erano loro i due candidati più accreditati. Tommaso Minervini, con il 45,72%, ha chiuso il primo turno in vantaggio. Anzi, le sue liste hanno superato addirittura il 50%, esattamente il 51,05%. Ed è su questo dato che paradossalmente si incentrano le speranze di Isa De Bari. Oltre 5 punti meno per il candidato sindaco rispetto alle liste che lo hanno sostenuto. Potrebbero rappresentare una breccia nella corazzata di Minervini. E Molfetta non è nuova a clamorosi ribaltoni. Resta comunque il favorito in considerazione del sensibile vantaggio di 16 punti sulla sua antagonista, che nonostante il ballottaggio sia un'altra partita, rappresentano un indicatore importante. Ma ogni elezione è una storia a sé. Da parte sua, Isa De Bari, con il 29,92%, raccoglie un punto in più delle sue liste, dimostrando che chi aveva frettolosamente dato per morto il centro-restra Molfettese, dopo lo spostamento dei Tammacco e dei Camporeale, verso i più confortevoli lidi di Emiliano, aveva fatto i conti senza l'oste, anzi senza il morto. Sarà quindi un ballottaggio tutto da seguire, che avrà come spettatori interessati i tre candidati sindaco esclusi, di cui uno solo, Gianni Porta, entrerà in Consiglio Comunale, mentre Bepi Maralfa e Leonardo Siragusa ne resteranno fuori chiunque vinca. Gli occhi sono puntati, soprattutto su Porta, che ha raccolto un ottimo 16,43%. La sua coalizione di sinistra è lontanissima da entrambi gli aspiranti alla poltrona di sindaco, ma come ha riferito nel corso della nostra trasmissione di commento al voto, sarà l'assemblea dei partiti che lo hanno sostenuto a decidere il da farsi. Va fatto rilevare però un aspetto particolare. Stando ai curiosi giochi dei resti, se dovesse vincere Minervini, i seggi di minoranza sarebbero ripartiti sette per la De Bari e tre per Porta. Se invece dovesse vincere la De Bari, i seggi per Porta si ridurrebbero a due, mentre a Minervini andrebbero gli altri otto. A restare fuori dal Consiglio Comunale in quest'ultimo caso, sarebbe l'ex sindaco Paola Natalicchio e con lei sinistra italiana. Una situazione che potrebbe indurre lei e il suo partito a convergere su Minervini, che solo poche settimane fa la Natalicchio aveva definito il padre di Azzolini e del porto delle bombe. sono i casi e le stranezze della vita e della politica. Naturalmente fanno gola anche il 4,31% di Maralfa e il 3,79% di Siragusa. Le offerte non mancheranno, offerte politiche naturalmente, ma queste sono solo analisi alla fine a decidere il 25 giugno. Saranno soltanto, sempre e comunque i cittadini.